Wabalaba dab dab e bentornati su No Mamamazzo. Continua il Lunedissi Comics e oggi vorrei parlare con voi di una saga recentissima che mi è piaciuta molto. Questa saga è I tre Joker, lo so è uscita un po' di tempo fa, ne parlo con estremo ritardo e proprio per questo ne parlerò facendo totalmente spoiler. Prima di cominciare, se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che vi frega di condividere il video con tutte le persone che hanno almeno due sosia e di commentare qui sotto con quello che ne pensate di questa saga e di questo stramboide personaggio che è il Joker. Seguitemi anche sugli altri miei social perché soprattutto sul sito Viola, sempre di lunedì, lunedissi comics, parlo appunto della DC Comics mentre faccio del gameplay sempre a tema DC Comics. Allora, Batman I tre Joker, edito già da Panini Comics, che si sa ha acquisito la DC Comics, la distribuzione della DC Comics in Italia insieme a quella della Marvel, è stato pubblicato appunto in tre volumetti da 5,90€ l'uno, la cosa bella è che in ogni volumetto si ha sulla copertina uno dei tre diversi Joker. Lo vediamo nel numero uno, c'è il Clown, che ha in mano un piede di porco e quindi simboleggia il Joker che ha malmenato fino alla morte Jason Todd. Nella seconda copertina c'è il criminale, che ricorda molto il Joker di Jack Nicholson e nella terza copertina c'è il comico che fa questo gesto come se stesse fotografando, anche un look che ricorda quello di The Killing Joke. Ma che significa tre Joker? Ci sono tre Joker? Ci sono sempre stati tre Joker e non solo uno? Facciamo un passo indietro. È il 2015 e sta finendo un'altra saga supereroistica nella DC Comics, sulla Justice League, e nella testa di Batman e nella testa di noi lettori viene innestato il seme del dubbio, quando Batman scopre che alla domanda qual è la vera identità del Joker, non gli si dà una sola risposta, ma gli si danno tre risposte, gli si danno tre nomi differenti. E il dubbio è proprio questo, ovvero, e se il criminale dal nickname Joker, dal vero nome e vere origini sconosciute, non avesse una sola identità, non avesse una sola origine, ma tre? Frase che tra l'altro viene ripresa sempre da The Killing Joke, dove il Joker dice non so se questo è il mio vero passato, cioè quella storia che vediamo in The Killing Joke, se devo avere un passato preferisco avere una scelta multipla. Quindi già lì il Joker inizia a insinuare che quello che abbiamo visto potrebbe non essere vero, potrebbe essere frutto della sua mente malata, ma in questo caso, in questa saga, scopriamo che potrebbe essere una delle tante origini, perché c'è più di un Joker. Questa è una saga che avrebbe potuto seriamente minare il fascino di questo personaggio. Ma fortunatamente gli sceneggiatori sono riusciti a evitarlo, perché si sa, nel fumetto tutto cambia per poi ritornare uguale, come un'increspatura in un lago che smuove un po' le acque per poi ritornare allo status quo. E così è stato anche in questa saga, quindi alla fine non è cambiato nulla di fondamentale nella continuity del personaggio Joker, ma è servito a due cose. Uno a spiegare, diciamo, questo modus operandi così diverso in 80 anni di pubblicazioni da parte di questo personaggio, che in realtà è giustificabile col fatto che i tempi cambiano ed è normale che anche un personaggio così strano come il Joker sia cambiato negli anni. Però hanno voluto dare una spiegazione all'interno della narrazione sul fatto che questo modus operandi così altalenante da parte del Joker sia dovuto al fatto che ci siano stati in giro più di un Joker in questi anni. L'altro aspetto di questa saga è che invece non si focalizza tanto sul Joker quanto sui personaggi che lo affrontano e vuole approfondire appunto questi personaggi più che il Joker stesso. I tre personaggi sono per l'appunto Batman, eterno nemico di Joker, Jason Todd, che è stato ucciso dal Joker e è impregnato di odio verso Joker e verso Batman per quello che gli è successo, e infine Batgirl, che in The Killing Joke è stata, diciamo, resa disabile a causa di un colpo di pistola da parte del Joker. Ed sarebbe stata per sempre resa disabile dal Joker se non fosse che poi quando hanno rimescolato un pochino dopo Flashpoint nel 2011 con la saga The New 52, hanno fatto in modo che le ferite di Barbara Gordon riportate appunto da questo colpo di pistola del Joker non fossero permanenti e che quindi lei fosse ritornata pian pianino ad avere l'uso delle gambe e ritornata pian pianino a vestire di nuovo i panni di Batgirl. Ma prima di questo cambio di continuity la cosa era permanente. Batgirl era costretta per sempre sulla sedia a rotelle, tant'è che appunto aiutava i vari supereroi appunto da dietro una scrivania, da dietro al Batcomputer sotto il nome in codice di Oracle. Lo abbiamo visto anche nella saga videoludica di Arkham, Arkham Knight, Arkham City e Arkham Asylum. Non Arkham Origins, dove appunto non è ancora successo tutto questo e lì c'è Alfred, se non sbaglio, che comunica con Batman. Dicevo per l'appunto, questi tre Joker sono etichettati con questi tre appellativi il clown, il comico e il criminale. Il clown rappresenta il Joker che ha malmenato, lasciandolo in fin di vita, Jason Todd che poi è esploso appunto in una bomba che aveva sempre lasciato il Joker. Questo avvenimento è narrato nella saga Morti in Famiglia che all'incirca è stata pubblicata la prima volta nell'88. Sempre nell'88 è stato pubblicato anche The Killing Joke, ovvero dove il Joker spara alla colonna vertebrale a Barbara Gordon. Quindi diciamo che in un certo senso non è che gli si vuole dare una fase temporale a ogni Joker, ma più che altro si vuole legare ogni singolo Joker a un momento particolare molto importante della continuity dell'Uomo Pipistrello. Per quanto riguarda invece il criminale, a questo criminale si affida i primi periodi, i primi anni in cui il Joker affrontava Batman. Dal punto di vista grafico e comportamentale, il comico ricorda tantissimo il Joker di Cesar Romero, quello della serie degli anni 60, che adesso stanno ritrasmettendo tra l'altro su Rai 4 tutti i giorni. Ha un vestito viola tendente al rosa, quindi ha un violetto molto più chiaro, ha la camicia verde esattamente come ce l'aveva Cesar Romero, e ha dei modi, delle movenze molto kitsch, proprio come era la serie tv degli anni 60. Il criminale invece che nel secondo o terzo numero dice a Jason Todd io c'ero da prima che c'era Batman, è un chiaro riferimento a Jack Napier, a Jack Nicholson, quindi a questa persona molto seria che viene trasformata in Joker, ma che già prima di essere Joker era un criminale. E non mi riferisco allo sfortunato cappuccio rosso che viene coinvolto in un'operazione criminosa, come abbiamo visto in The Killing Joke, ma un vero e proprio gangster che finisce nella vasca di acido. Dal punto di vista grafico lo capiamo perché indossa anche un cappello esattamente come Jack Nicholson nel film, ha un bastone da passeggio e ha un cappotto un pochino più scuro. C'è anche un omaggio al Joker di Ledger in uno di questi Joker, perché una delle vittime del Joker viene sbranata dai suoi stessi cani, cosa che abbiamo visto fare dal Joker di Heath Ledger nel Cavaliere Oscuro. Il Joker di The Killing Joke, ovvero il comico, invece rappresenta in un certo senso il comico di Joaquin Phoenix, il cabarettista, ma anche, soprattutto sul finale, nel suo piano elaboratissimo e folle, rappresenta molto di più il Joker di Heath Ledger, un Joker anonimo e che vuole restare anonimo. Dal punto di vista grafico è palesemente il Joker di Killing Joke, perché lo vediamo prima con la storica camicia hawaiiana nella ricolorazione voluta da Moore, e poi lo vediamo con il cappotto di pelle viola, con il soprabito viola, che copre, diciamo, il suo outfit. Se ci fate caso è la stessa colorazione di The Killing Joke. Nella teatralità, invece, del clown, che viene ucciso nel primo numero, vediamo anche i pesci che vengono trasformati, vengono jokerizzati, appunto, dal gas del Joker. Questo è un omaggio all'episodio I pesci che ridono, episodio fantastico della serie animata Batman The Animated Series, che poi viene anche ripresa nei fumetti. Vi ricordo che sto facendo soft spoiler, quindi se avete in mano il secondo libro di I tre Joker e rileggete la scena di apertura, quella dove il Joker di Killing Joke ha questa sorta di allucinazione, diciamo, in cui crede di cenare con la propria famiglia, che poi era la famiglia che avrebbe avuto se la moglie e il figlio non sarebbero morti in The Killing Joke, è più di un'allucinazione, ma è quello che sarebbe successo se la famiglia non fosse morta, ma noi lo vediamo, che in realtà non è morta, ma è stata messa in custodia cautelare perché già prima di diventare Joker, questo Joker di The Killing Joke, questo comico, era comunque una persona pericolosa, era un violento, un irascibile, che avrebbe picchiato la moglie e avrebbe picchiato il figlio. È chiaro che questo Joker ci soffre per la perdita di queste persone che tuttora crede siano morte e ha questa sorta di allucinazione. Lui vuole che siano ancora vivi, vuole avere questa sorta di famiglia, non rendendosi neanche conto di quanto fosse lui il pericolo per queste persone. Non oso pensare la sua reazione se mai scoprisse che la sua famiglia è ancora viva. Mi piacerebbe davvero tanto, non subito, perché queste cose, queste saghe, vanno centelinate, se tra una decina d'anni o di più trattino questo tema. Cioè il Joker che scopre che sua moglie e suo figlio non sono stati davvero uccisi dall'esplosione in quella che era a casa sua, ma sono sotto custodia cautelare e Batman lo sa. Credo che potremmo assistere davvero allo scontro finale tra Joker e Batman. Sarebbe bello vedere, anche ambientato in un ipotetico futuro, la morte di questo Joker a seguito di un epico scontro dopo che è stata rivelata questa cosa. Il Batman criminale che appunto racconta a Jason Todd di esserci stato da prima di Batman e che quindi ricorda da questo punto di vista Jack Nicholson, però ammette anche che è l'unico che ride meno perché quando ride gli fa male. Questo è un chiaro riferimento al Joker di Joker, quello di Hawking Phoenix che appunto soffre di un disturbo che lo porta a ridere quando si trova in situazione di disagio, ma questa risata non è una risata genuina, ma una risata scaturita dalla tensione, scaturita dallo stress, dall'ansia che può ricordare come cercare di trattenere uno starnuto e non riuscirci. Questa saga tratta anche di come Jason Todd, il secondo cappuccio rosso, sia molto irrecuperabile. Lo vediamo perché uccide finalmente, sparandogli in testa, uno dei tre Joker. Non sappiamo se è quello che lo ha malmenato quando era Robin, però diciamo che si toglie un pochino finalmente la soddisfazione di uccidere per sua mano un Joker, però questo lo fa cadere in una spirale, non che non avesse mai ammazzato prima, ma diciamo che qua lo fa davanti a una testimone che è Batgirl. La cosa verrà tra virgolette insabbiata perché se dovessero denunciare come andrebbe fatto Jason Todd, Barbara Gordon sarebbe costretta a smascherarsi e di conseguenza anche Bruce Wayne sarebbe costretto a mascherarsi. Quindi vediamo tutte le gradazioni di grigio tra la giustizia e quello che fanno questi vigilantes proprio perché sono con le spalle al muro tra virgolette non potendo denunciare. In realtà credo che in una situazione più verosimile Barbara Gordon lo avrebbe fatto, però chiaramente gli sceneggiatori non possono far smascherare Barbara Gordon perché probabilmente vogliono che continui lo status quo come dicevo prima. Dicevo non si sa se è davvero il Joker ucciso da Jason Todd quello che ha malmenato Jason Todd quando era Robin perché quando poi viene rimalmenato nel secondo volume il comico confessa che è più divertente della prima volta quindi pare che sia sempre stato il comico ad aver malmenato Jason Todd oppure sono solo dei giochetti mentali che il Joker dice per incasinare ancora di più la testa di Jason ma oltre alla caduta nell'oblio sempre più giù di Jason Todd viene anche trattato una sorta di spiraglio di probabile rinascita perché quando Jason Todd viene ospitato nell'appartamento di Barbara Gordon per curarsi dalle sue ferite Jason diciamo si rende conto che non è l'unico ad aver sofferto per mano del Joker non è l'unico ad aver passato attraverso l'inferno per mano del Joker se ne rende conto quando vede la sedia a rotelle di Barbara quando vede tutti tutti i fogli di calendario conservati da Barbara in cui Barbara Gordon ha dovuto fare fisioterapia ha dovuto combattere la sua disabilità per guarire da quello che il Joker gli aveva fatto quindi vediamo che Jason che sta invece sprofondando in una spirale sempre più verso il basso vede si rende conto del percorso che ha fatto Barbara di risalita alla vita al poter camminare con le sue gambe di nuovo e magari questo potrebbe dargli che ne so in futuro una piccola speranza sul fatto che anche lui ce la può fare anche lui può smettere di essere un assassino un altro tema trattato per quanto riguarda invece Batman in questo caso è l'assassino dei suoi genitori da parte di Joe Chill Joe Chill è uno dei tanti criminali come abbiamo visto appunto in Batman Begins che rappresenta quello che è successo davvero nei fumetti e non il Batman dell'89 dove è Jack Napier che uccide i genitori di Batman Joe Chill è un signor nessuno che uccide i genitori di Bruce Wayne creando Batman qui viene trattata questa trama proprio perché vediamo anche un percorso da parte di Bruce Wayne di perdono verso la persona che lo ha fatto soffrire più di tutti a questo mondo ovvero la persona che gli ha tolto i genitori il cerchio di questa saga si chiude proprio al Monarch al teatro dove Bruce Wayne e i suoi genitori erano andati a vedere la maschera di Zorro e fuori da questo teatro furono appunto assassinati per mano di Joe Chill i due Joker rimasti in vita portano Joe Chill in questo teatro e vogliono o meglio uno dei due Joker vuole che si abbassino Batman a salvare l'assassino dei suoi genitori mentre il Joker criminale che rappresenta appunto il Joker di Batman dell'89 il Jack Napiers il Jack Nicholson vuole che ci sia un nuovo Joker che rappresenta qualcosa di più profondo per Batman quindi vuole un Joker che abbia un significato molteplice per Batman un Jason Todd oppure un Joe Chill vuole che Joe Chill diventi il nuovo Joker vuole che Joe Chill che il nuovo Joker sia colui che ha ucciso i genitori di Batman fondamentalmente vuole la profondità che abbiamo visto nel primo film di Batman quello del 1989 perché il Joker criminale fondamentalmente è quel Joker è quel Joker dell'89 per quanto riguarda invece il Joker comico il Joker di The Killing Joke in questo caso rappresenta molto di più il Joker di Heath Ledger perché vuole solo il caos vuole l'anarchia vuole il caos che si contrappone alla mania di controllo di Batman di controllare tutto e proprio perché lui è il caos ci tiene che il Joker in quanto icona in quanto simbolo non debba rappresentare qualcuno in particolare non debba rappresentare qualcuno che ha ferito Batman ma debba rappresentare proprio questo il nulla e il tutto nello stesso tempo deve essere un signor nessuno che scatena il caos nella vita di Batman e di Gotham City ovviamente il Joker per sapere chi è Joe Chill per Batman vuol dire che sa l'identità di Batman sa l'identità di Bruce Wayne che è una cosa che sa da Morte della Famiglia una saga recente non Morte in Famiglia dell'88 Morte della Famiglia è una saga che è avvenuta all'interno di The New 52 e da lì si scopre che sa l'identità di Bruce Wayne ma non gliene frega niente così come Batman sa l'identità del Joker ma non gliene frega niente perché l'identità di questi due personaggi l'identità segreta dei due personaggi non è importante per quello che rappresentano è una cosa che a me non piace molto il fatto che il Joker sappia l'identità di Batman ma se lo poniamo di fronte al fatto che anche Batman sa l'identità del Joker la cosa è abbastanza equilibrata e quindi non è totalmente una cosa che mi fa storcere il naso il piano di quello che si rivela essere il vero Joker a quanto pare ovvero il comico ovvero quello di The Killing Joke che canonizza tutti gli effetti l'origine che abbiamo visto in The Killing Joke è quello di fare in modo che Batman superi il suo trauma più grande fondamentalmente in un certo senso lui vuole aiutare Batman a superare l'odio che prova per Jocille e infatti alla fine di questa saga Batman Bruce Wayne dopo che ha letto anche le innumerevoli lettere che Jocille ha scritto in carcere per Bruce Wayne perdona Jocille sul letto di morte addirittura va a fargli visita poi una volta morto sulla sua tomba il Joker vuole che Batman superi questo trauma in modo che il trauma più grande nella sua vita sia il Joker stesso Joker sa che non allo stato delle cose non poteva assolutamente essere la ferita più grande per Batman perché la ferita più grande per Batman era Jocille l'assassino dei suoi genitori aiutandolo a perdonare l'assassino dei suoi genitori Joker scatta al primo posto tra le cose che più faranno male all'uomo pistrello pensate quante folle l'ossessione di quest'uomo per Batman l'ossessione quasi amorosa quasi morbosa che vediamo trasposta ancora una volta il desiderio del Joker del comico del vero principale Joker era essere messo al primo posto nei traumi di Batman e in questo modo a quanto pare potrebbe riuscirci questo è quello che mi ha dato questa saga mi è piaciuta molto potevano usare di più secondo me potevano davvero mettere le carte sconvolgere tutte le carte in tavola in realtà hanno voluto tenere comunque i piedi in tutte le scarpe hanno voluto che poi lo status quo tornasse a livello di macro storia tornasse come prima quindi hanno sconvolto solo due cosette cioè il fatto che forse Jason Todd potrebbe redimersi un pochino il fatto che Bruce Wayne ha perdonato Joe Chill ma non ci sono stati grossi cambiamenti però come saga in sé mi è piaciuta molto fatemi sapere voi qui sotto cosa vi ha dato questa saga se vi ha fatto piacere ancora di più il Joker oppure se lo preferivate senza questa saga io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video e vi ringrazio Grazie a tutti